Musica Sono, erano anni che si dice, perché prima si ballava, adesso lei non si vede, ma dove ci sono quegli alberi, dove c'era il gioco da bocce, poi c'è cominciato a fare la festa e loro prima di arrivare cercavano di attrezzarsi, poi ultimamente c'erano sempre dei problemi perché c'era il vento, insomma sempre una situazione un po' precaria, a differenza degli altri comuni, delle attrezzazioni, allora da qualche anno che si pensava di fare un'associazione, prologo e siamo riusciti quest'anno a stringere i tempi e a metterci d'accordo che non è poco perché in un paesino del genere chi dice sì, chi no, ma forse no. E siamo riusciti ad individuare appunto questo terreno che abbiamo ovviamente dato più volentieri perché era anche più comodo e più spazioso, creando questa prima piattaforma che servirà per fare le pranzi, ballare, suonare quel pizzo, insomma tutte le tradizioni che fino adesso sono state mantenute, con la speranza che poco per volta si possa mettere una cascina di legno da fare una struttura anche per quando piove, eccetera. E' la dimostrazione che mattina che il mezzo paese ha preso anche ferie per venire a fare queste gettate, è quello di dotarsi di uno spazio, di un luogo dove poterci ritrovare. Di fatto il primo appuntamento c'è la Ferragosto per la festa locale con Bigliata, tutto autofinanziato per il momento, poi si vedrà perché i tempi sono quelli che sono e si spera comunque che possa essere l'inizio di un buon percorso. C'è praticamente il cemento che c'era nella betoniera, l'autopompa non lo spingeva più, allora ce l'ha scaricato e adesso vediamo se basta, se no noi impasteremo dell'altro con delle betoniere. Ci sono certi di Genova e certi di Novi. C'è l'ultima, 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 l'ultima. Francesco! No! 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 Troppo quando ti manca... Ce ne manca ne manca la betoniera! Ma la manca a pesa la betoniera? La farà meglio impastare la cattivata, hai portato il reggiuone? Benissimo! No, su! E' un po' se si passò! E' un po' di tagliere, se lo voglio impastare! Ci ce la faccio anche te, eh! Cemento io ne ho! Fabiano! Tirato! Ma come c'è? Fabiano! Ma ne ha bastato una quattro perione! Che era! E' che lì andrà le quattro carette! Ma con te, eh! E' un po' che l'ultima. Non è tutto! Grazie Non è muore Ah la data La data da qualche parte No ci ha l'ambulire un po' Danilo si è raccomandato Glielo diciamo a Danilo Mi? Alberto Sta sudando Alberto Non lo vedi? Sono male No vai Mi sta colando Mi lo fai via Sto scrivendo Non è che lo dovete fare anche voi No no basta Voi non lo dovete fare Sì sì No 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 Buongiorno no, ma a capire no, no, ma a capire no, no, ma a capire forza un po' ah si eh ah si eh ahahahahah ahahahahah come l'ho fatta dai? ah dai e poi la ciuma e si ci rimarrà? si metto solo 2011 o no? 2011 ok è nata una stella ahahah stai risposta quindi adesso però l'una mi viene dai dai voilà oh oh devi partire un po' più là non c'è il computer da centrarla ahahahahah ahahah va bene no va bene no, va bene che si non è più caldo l'altro giorno no, c'è un blu è un bel vatico 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti